ok adesso vediamo assaggiamo è la prima volta per me quindi non so è da guardare tu non ho capito a vattene via merdina guardava troppo forma si grazie molto vale una mela vuole brillare anche lei d'immenso no 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 tenga tenga provi guardi anche lei brilla aiuto 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 grazie mille buonasera scusi ma ho saltato non ho preso non ho preso gli scaffolding aiuto qualcuno mi aiuti aiuto oh mio tio grazie nuova non la muova potrebbe essersi rotto il bacino aiuto sono caduta di nuovo ma come è caduta di nuovo ma che distanza è caduta dalla sopra ma deve stare più attenta secondo me morirò prima di finire la casa ma anche secondo me guarda che carino cavallino ciupi 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 cavallino per cosa sta ciupi ciupi scusi ha già dato un nome ma ancora meno venduto no no è ciupi ciupi che carino ieri che ne stavamo parlando doppio zoom raga salve salve vedo che la casa sta prendendo forma si le piace è molto molto ha per caso un secchio d'acqua e cosa le serve fare l'entrata guardi faccio vedere all'entrata dritta dal culo un po eccessivo alcuno della gallina in che senso cos'è questa magia ragazzi l'acqua siamo in mezzo all'acqua è proprio un mondo magico questo è un mondo magico che merda che cagata c'è un interferenza no mi scusa signorina vic ma questo potrebbe essere considerabile un appuntamento c'è lattosio potrebbe esserci io sono un po intollerante leggermente nulla di si leggermente ok leggermente leggermente intollerante l'ha mangiato il pesce i due malviventi scherzo ma c'è la pulizia là dietro dove non è vero detto questo e insomma vede lei però così potrebbe metterà salve ma che carino mi scusi ho sbagliato tasso veramente oh mai oh mai no 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 ho sbagliato tasso sbagliato tasso non mi permetterei mai ok beh ha problemi muscoli per caso eh forse si vada riposare un pochino perdoni eh lavora troppo di una patata patata ah il menù allora per caso ci sono gli zurimaki, salmone fritto, pesce fritto, tortano fritto, kukuyaki, zurimaki, tashimi, tashimi, nanigiri, tashimaki, ozoyaki, tutti i freschi di oggi ok per caso vuole un zurimaki fresco di oggi? va bene assaggiamo per caso vuole un salmone fresco fresco di oggi? no il salmone no non l'ho visto andare a pescare però scusi il salmone di oggi? no il pollo no per caso vuole un po' di grasso di balena fresco fresco di oggi? che schifo no dei totani fritti freschi di oggi? no un po' di salmone a fumicato fresco di oggi? un po' di salmone a fumicato fresco di oggi? salmone a fumicato fresco di oggi? per caso vuole... non so beh lei porti le cose migliori che ha le più fresche le porto tutto il conto salatissimo però ah no allora no scusi ma ho detto che ho frivare scusi signor Gino? no no però io erano scher... erano scherzette aiii la grande che simpatico che sia non ho abbastanza ferro vedete dobbiamo andare a cercare il ferro ragazzi abbiamo bisogno di ferro ho 13 di cacao dobbiamo ripiantarne altri no che schifo ho sbagliato e niente che cribio proprio qua davanti? si è proprio risteto l'ha messa in lavatrice con il programma sbagliato di chi è? ma... eeeh... non lo so pensa che è il mio vicino... ok non sto più capendo niente venga con me voglio farle solo un paio di domande venga venga ma no ma no c'ho troppo da fare ma si levi dai maloni pure le... ma cosa? ma cosa? il locale è tutto un casino è pieno di vomito di puzza di merda ma mi scusi ma che che vomita? ma che locale è questo signor Gianco? non l'ho capito 5 stelle su TripAdvisor bello ma che c'è? c'è l'insegna c'è l'insegna ma c'è l'insegna ma c'è una recensione ma che 5 stelle dov'è Titto? grazie mi dico a vedere c'è è bella grazie Titto sei tu Titto? original giusto? allora guidami Titto al al lotto che vuoi comprare poi fai il pagamento io ti do il trust dovrebbe essere fatto diversamente ma ok no! ma porca merda cado sempre perchè sono così